il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di dunlop è di 8.6 su 10 è il più desiderato viene molto apprezzato per queste caratteristiche stile per principianti ottimo rapporto qualità prezzo puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo assegnato a questo articolo di wilson è di 8.6 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo si tratta di un modello di pregevole fattura con un rapporto qualità prezzo elevatissimo ed è molto apprezzato dagli utenti se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video questo articolo di dunlop ha riscontrato una valutazione di 7.8 su 10 totali lo valutiamo come la scelta migliore i suoi punti di forza sono per principianti stile ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato ed ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.8 su 10 è al momento il più votato con 195 valutazioni per questa categoria le sue qualità sono stile per principianti ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto